Le scene del soccorso ricordando Gigino è stato il tema dell'incontro affrontato e discusso nella struttura scolastica di Sant'Angelo da Life per sottolineare, iniziando già dai bambini presenti ed interessati, quanto sia importante apprendere e formarsi per salvare la vita altrui. L'occasione, voluta da Domenico D'Artaglia insieme al Comune, i Lions e la scuola, è stata propizia per ricordare anche Gigi De Lisi, stimatissimo cardiologo, scomparso prematuramente e che amava trasmettere agli altri disinteressatamente la sua esperienza professionale. Presente anche la famiglia, il fratello Salvatore, la nipote Laura, gli onori di casa li ha fatti la preside Angela Faraone, sempre sensibile a questi temi e non ultima l'importante intervento della dottoressa Maria Biasiucci, rianimatrice presso il presidio ospedaliero di Piedimonte Matese. La sindesi della giornata invece la facciamo proprio con Domenico D'Artaglia, istruttore delle manovre di primo soccorso. La vita nelle tue mani, di cosa si tratta esattamente? L'obiettivo dello slogan La vita nelle tue mani è quello di dare consapevolezza ai ragazzi sulle manovre di primo soccorso. Possiamo tanto fare, soprattutto nel momento in cui c'è un arresto ed è qualcosa che loro porteranno per tutta la vita, diventando consapevoli e cittadini di questo mondo, dando aiuto a chi in quel momento ha grossa difficoltà, legata alla sopravvivenza soprattutto. Il progetto nasce per valorizzare una persona, un cittadino sant'angiolesi, il dottore Salvatore Angelo Derisi, che è stato cardiologo, uomo polietrico, ma che si è sempre battuto per l'educazione sanitaria. Oggi noi con questo concorso premiamo i più bravi, sia per quanto riguarda, hanno fatto un piccolo componimento sul primo soccorso, ma soprattutto si eserciteranno in manovre di rianimazione cardiopolmonare. Poi è stata la volta di Salvatore Derisi, fratello del compianto Luigi, che tutti amavano chiamarlo Giggino, a ricordare sinteticamente il fratello. Una giornata importante oggi, perché serve per salvare la vita, però serve anche per ricordare... Due mani possono salvare una vita. Esatto, però serve anche per ricordare una persona importante, il cardiologo Luigi Derisi. Luigi Derisi, dottore Derisi. Lei è il fratello? Io sono il fratello di Giggino Derisi, di Luigi Derisi e devo dire la verità, per me è un po' un'emozione ogni volta ricordare queste cose, però mi rendo conto che è importantissimo, perché veramente due mani possono salvare una vita e grazie a questa associazione, alla preside, al sindaco di Sant'Angelo d'Alife, che presso il presso scolastico stamattina di Sant'Angelo d'Alife, si sta operando e quindi stanno facendo queste esercitazioni. Sì, mio fratello, devo dire la verità, anche in passato si adoperava per questo tipo di cosa, infatti spesso era presente in blessi scolastici di altri comuni. Da Sant'Angelo d'Alife è tutto, Lorenzo Applauso per casertasera.it